è il momento di allora sto cercando degli appigli posso? muovimi qua ok fai apposto allora ok non è andato perché mi si ostina a terrorizzare New York il rinazzo della spavigenza vieni qua ok è andato ok 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 bene bene è andato ti direi avvicinati, aspetta, prima vieni qua ok vieni qua ok 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 no ho sbagliato vieni qua ok ok vieni qua unisce arachnofobia che trofa ah io mi mi leggo il 75 mi piace un po' ti ok ok mancano eh manca un bel po' di gente un bel po' di gente c'è anche un bel po' di gente ok ok ne manca allora tu uno due tre quattro cinque e sei ancora ok ok sei lassù ok ok ma non li avevo fatti fuori tutti ecco ok 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 tu vieni qua ok 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 no vieni qua ok 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 grazie per questa curiosità l'architetto ok ok ok, devi guardare ok 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 va bene ok eccoci ok ok uno, due non credo sia una boss fight non lo so perché fai tutto questo? saldo un vecchio conto ok si, dopo le sue ah, il laterale credo ok ok qui qua ah, aspetta è con questo eh, ho capito questo cosa dovrei fare? ok ma potevi rimanere attaccato ok ok no ora ora ah, ora dovevo saltare ok 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 tu quella cosa la camera mia non la carichi eh, però eh, nulla non ci rimane ok ok non voglio ferirti niente può ferirmi no, non più eh, eh vai lui mi sembrava più boss finale niente freni? d'accordo come in Spider-Man 2 come in Spider-Man 2 come in Spider-Man 2 l'ultima volta ha funzionato Yuri, c'è un cantiere tra la 42esima e la prima l'area resta la chiuda ancora un lì ok ok prossima fermata il carcere però mi sembra mi ammetto mi sembra strano sconfiggere martin lì adesso cioè io davvero me lo aspettavo come boss finale del gioco riportatelo in laboratorio davanti mary jane watson lasciate un messaggio comprensibile vi richiederò appena posso e sono io se vuoi parliamo però puoi scrivere non finita in quel senso ditimo 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 ma chi deve pensare oh tu dici grandioso ce l'hai fatta lì è diretto a rat il respiro del diavolo non ha la seibull come ti senti? come mi sento? quanto tempo ho per rispondere? non molto le tue bravate si traducono in altre scartocche per me ma ci tenevo a dirti bel colpo grazie iuri ne avevo bisogno ora per colpa di li ho trascurato la città meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere allora la mappa la mappa ok quante altre stazioni mi mancano? stazioni audio intendo stazioni audio intendo eccole direi che possiamo prenderla prendiamo tutte le stazioni, tutte le torre di sorveglianza aspetta ok 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 no, 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 no ok è andato c'è un lato positivo se vi avessi permesso di entrare avreste dovuto scontare molti anni in più beh c'è ragione comunque questo è un lato positivo della questione ah cazzo la cola da mia povera godo ok ok attaccati alla macchina ok attaccati alla macchina no alla macchina è andato è andato senza di me i demoni avrebbero sopraffatto gli agenti della sera non c'è di che eh sì c'è questo amore quasi quasi nauseante no per quanto forte ok che cos'è quest'articolo che incolpava spiderman per i poliziotti uccisi da electro è stata l'ultima goccia da allora non ho più venduto foto a jameson hm ok la situazione sembra di nuovo sotto controllo forse peter parker dovrebbe tornare al laboratorio ok sì datemi un attimo dammi un attimo perchè voglio questa torre di sorveglianza dai che cosa voglio volare la dente ok 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 no andato ok ok c'è un altro qua vicino sì c'è questo mmm vabbè dai aggiungiamo aggiungiamolo con il raggio rapido dai voglio vedere più in alto la scena è il raggio rapido va bene possiamo andare forse perchè non è detto vediamo qua vediamo qua doc parker tempo per son brindisi brindisi ehi ma dove sono le braccia come vabbè come La tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronta, ci sono troppe incognite. Va, meraviglia. Su, da un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. Ok. Un piccolo di voltaggio. Si può risolvere. Allora. Deve avere due? Allora. Minus uno. Vabbè che. No, sono down però. Easy. Vediamo se funziona. Ok. Allora. Cinque. Allora. Posso? No. No. Ok. Devo metterne uno qui. Allora. Aspere. Allora. Me ne servono cinque. Quindi non li mettiamo tutti ora. Magari li mettiamo. Tre ora. Più due adesso. Così ci arriviamo a cinque. No. No. A meno che io non possa fare così. No. Aspere. Toglierli. Non posso toglierli. Devo. Aspere. Sono down. Ok. Ok. a meno che, ah no questo è da quattro, no devo per forza, ok ripristiniamolo, non posso levarlo, quindi la cosa che posso fare è farlo passare da qui, questo lo posso fare, qua ne aggiungo due, qui lo spostiamo, qui lo allunghiamo, qui ne aggiungo tre, qui ci attacchiamo al cazzo, noi non possiamo fare una sega, momentaneamente, quindi, 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 lo portiamo qua, ok, ne togliamo uno, ne togliamo un altro, ok, no, magari mettiamo questo qua, e ne aggiungiamo due, andate, si, si che si serve tutto, farmi levare tutto quello che, ah ok, me ne servono 5, quindi, quello che posso fare, metterne uno qua, me lo porta su, poi, questo va dritto, questo lo portiamo qui, quanti no? no, ripristiniamo, questo, ok, ma dovremmo rifare, perché 5, qui me ne toglie uno, aspetta, mettiamone 4, poi ne mettiamo uno così, poi uno così, poi ne togliamo uno, poi ne lasciamo uno qua, poi uno così, uno così, uno così, uno così, uno così, ok, 6, sì, ci siamo, non funziona mai, ma ci siamo, teoricamente è così, no, che dovrebbe andare, posso magari spostare uno di questi per mettere lui, sì, 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 è andato, porca puttana, ora mostriamo al mondo la nostra opera, 8, la nostra rete non isola i neuroni motori, se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più testi, basta con i testi, è la prima volta in vita mia, se non mi sento un fallito, mi sento solo, lei non è un fallito, ma così rischia danni permanenti, la prego, coraggio, manca poco, non solo, non solo, per stare meglio, vai, vai, va tutto bene, sì, grazie, per, per tutto, Siamo in diretta dal Grand Central Terminal, per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne, Martin Lee è dietro le sbarre, io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini, i new yorkesi devono prendere una decisione, che potrebbe cambiare il destino di questa città, il giorno delle prossime elezioni, e penso sia finito l'8-2, o comunque, siamo lì, no? perché ora credo che sia il dottor Octavius il cattivo, va bene, prossima parte direi,